Soglio Benvenuti a Soglio, classico paese alpino situato in Val Bregaglia a mille metri d'altitudine. Soglio è un paese autentico, rurale, dove si respira ancora la vita di un tempo. E adesso è con piacere che andiamo a trovare una persona del posto, la signora Fiorella Villi. Il mio nome è Fiorella Villi e abito a Soglio con la mia famiglia. Svolgo dei lavori d'ufficio presso la ditta di mio marito. E per me è un privilegio vivere qua a Soglio perché si vive in stretto contatto con la natura e quando esci di casa hai quella bella vista sulle montagne. E poi anche il villaggio di per sé è quasi un museo. Ci sono case e stalle che si alternano, una quasi appiccicata all'altra. e abbiamo anche i palazzi della famiglia De Salis con dei magnifici giardini. La soglia del paradiso. Così il pittore Giovanni Segantini descrisse il paese di Soglio ed è proprio di questo famoso pittore che parleremo durante il nostro incontro assieme a Diana Segantini a Maloia. Grazie.